Buongiorno, oggi inauguriamo la nostra fabbrica nuova, probabilmente il primo esempio di fabbrica di sito industriale 5.0 che significa che la proprietà Sabato di Grimaldi l'ha voluta centralizzata sulle risorse, che vuol dire che dall'ecosostenibilità, quindi nel periodo estivo siamo completamente autosufficienti da un punto di vista elettrico, di riscaldamento, per tutto il periodo dell'anno possiamo risparmiare fino al 50% di energia centrata sulle risorse, per cui il riscaldamento viene idrotermico dal basso, abbiamo un sistema di antincendio di alta sicurezza con gli sprinklers dall'alto, il sistema di produzione permette all'uomo di stare in forma eretta e non china, molto digitalizzata, ergonomica e poi ovviamente cerchiamo di avere, oggi siamo il 40% della forza lavoro è donna, il 60% è l'uomo, vogliamo arrivare al 50-50 almeno. Essendo un'azienda estremamente digitalizzata facciamo assunzioni dei ragazzi giovani che sono quelli più esposti alla digitalizzazione, per cui la Bianchi 5.0.